Tutorial, tutorial per il mio protocollo di queste foto prima e dopo che vi ho fatto vedere che io adoro i protocolli. Perché adoro i protocolli? Perché non esiste una singola bacchetta magica. Noi non possiamo dire prendi questo prodotto o fai questo integratore o fai solo questo e avrai una soluzione a tutti i tuoi problemi perché non è vero. Ogni corpo è diversa, ogni età è diversa, maschio e femmine sono diversi e a volte dobbiamo magari applicare più costanza una persona più di un altro perché ci sono anche le persone che naturalmente ha una pelle migliore dei altri. Noi non possiamo dipingere tutta la staccionata con la stessa pennello come si dice in inglese e questo vuol dire che ci sono protocolli. Ovviamente quando le persone vedono dei risultati ricordiamo che io ho una stile di vita che mantengo da tanti anni, non bevo, sono a stemia, non fumo, dormo otto ore a notte, mi alleno tutti i giorni e faccio digiuno in intermettenza, bevo tanto acqua. Questi ovviamente sono già la prima parte del protocollo che sono molto importanti. Ovvio se una persona si tratta il corpo male si leggerà in faccia, se fumi avrai più codici a barra, se fumi probabilmente ti consumi più o crei più radicali liberi nel corpo e questo ti danneggia più la pelle. Se prendi tanto sole, se prendi tanto sole e non usi le schermi solari tu potresti avere ancora più problemi con la vostra diciamo pelle. Io sono molto attente di tutte queste cose, cioè il capello, mette sempre una scherma totale nel viso. Ma questo protocollo di che cosa sussiste? Allora sussiste di farlo tutti i giorni utilizzando anche se volete un integratore come Skin Renew o Body Renew che sono a base di collagene, acido ialuronico e fautori che aiutano a stimolare la produzione endogene di collagene. Ok? Queste sono cose che aiutano. Ma il protocollo che ho fatto per avere questi risultati è Face Gym, poi massaggio facciale con olio di rosa moschetta e poi Derno Roller. Prima di cominciare vi invito sempre di struccarvi con acqua miscellare. Sarebbe anche meglio di sciacquare l'acqua miscellare alle fine perché l'acqua miscellare purtroppo è un colore ideale. L'acqua miscellare ha diciamo delle nanoparticelle di detergente per aiutarti a togliere lo smog togliere... perché io non mi sono truccata stamattina, sono andata al lavoro senza truccarmi però comunque il tempo di passare da casa mia in negozio e tornare qua, comunque lo sporco c'è. Vedi? Questo smog può essere smog, può essere magari mi sono toccato qualcosa, poi mi sono toccato la faccia, è la prima cosa. Ok, una volta che si asciuga il viso cominciamo con Face Gym. Face Gym è palestra o allenamenti, esercizi per i muscoli facciali. Esattamente come abbiamo i muscoli sui bicipini, sui glutei, sui abdominali, ce l'abbiamo faccia, ma pure tantissimi. Così questi esercizi ci aiutano per i muscoli, ma ricordate la pelle e i muscoli sono due diversi binari e man mano che cominciamo a invecchiare è importante di trattare tutti e due. Palestra, fisico, esercizio fisico per i muscoli e poi anche altre cose che aiutano la pelle a tonificarsi sopra i muscoli. Così andiamo innanzitutto con il nostro Face Gym. È più difficile per me parlare durante il Face Gym perché ci sono tanti movimenti che non posso fare così conto con le mani. Su mio YouTube potete trovare Face Gym, sulla mia palestra online potete trovare Face Gym e sulla mia zona privé su geocuber.it, mio sito, potete trovare allenamenti di Face Gym. Detto questo, ma partiamo con una mini Face Gym. Allora, a me piace tantissimo, ok, per, diciamo, proprio partire a fare soffiare le candele. Stiro, ma senza strattonare troppo, stiro la pelle e comincio a soffiare le candele. E sto accentuando, diciamo, il viso in avanti provando proprio di esercizzare o fare esercizi per i muscoli facciali. Ancora 10. Stop. Altro movimento per il collo. Portiamo delicatamente giù pelle del collo, sollevamo poco il mento e cominciamo a portare il mento in avanti. Stop. Stop più o meno facendo 20 esercizi per ogni, per ogni posizione, non dovete esagerare, perché giorno dopo sentirai che hai attivato i muscoli della faccia. Altra cosa che mi piace molto è proprio quello che chiamo pesce palla per le codici a barra, ok? Porto le labbra sotto i denti e comincio a spostare l'aria nelle guancia lassù, giù a destra e sinistra. Faccio anche il rumore che sembra un porcellino, scusatemi, però viene... Scusate le perdacchie. E ci aiuta. Un altro esercizio eccellente per le codici a barra che mi avete chiesto è fare papà, così papà, papà , papà, e stirerà più più possibile. Papà, 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 papà. Papà, 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 papà. Altro che mi piace moltissimo è leccare il palato, giù, le palpebre ok io ho questa palpebre che scende ok giusto? si questo perché sono avrò questo mi sono giusto io lavoro di più questo che l'altro primo esercizio un dito qui e un dito qui sollevamo e guardiamo verso basso senza strattonare di troppo guardo giù e batto le palpebre per uno due tre sette dieci dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno poi continuo con quello che è più basso dell'altro ancora dieci dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno un altro movimento che possiamo fare è di fare un sorriso tenere tesa la laura e provare di passare la lingua da una parte all'altra molto bello molto bello eh scusate esagerando e stop così passiamo io ho tantissimi esercizi di face gym online e potete seguire da sette minuti a quindici minuti una volta che abbiamo fatto il nostro face gym adesso andiamo a fare il massaggio facciale e per questo molti di voi mi avete visto questi risultati accretanti perché se lo fai tutti i giorni già veramente già dopo pochi giorni con face gym e con il massaggio sto usando olio di rosa moschetta puro ok è puro cioè solo olio di rosa moschetta spremato spremuto a freddo ok a questo punto comincio adesso con il massaggio io non uso l'olio di rosa moschetta durante il diciamo face gym perché mi scivola troppo non riesco a tenermi a tenermi la pelle tesa così quando vado a lavorare sul massaggio passo con l'olio di rosa moschetta perché ovviamente vogliamo che si scorre la mano e che non strattona ok le vie linfatiche vanno a buttarsi verso il nostro petto così pensiamo di andare a fare l'ovale e scendere giù e usiamo l'enocchia molto semplice si può anche usare uno washaw e vai sempre da centro verso l'ovale verso l'attaccatura dei capelli e come cerete a notare puoi anche prendere così e tirare su però solo se avete messo un creme emolliente un olio emolliente io uso olio di rosa moschetta ma potresti usare olio di jojoba jojoba o jojoba in spagnolo o altrimenti olio di mandorle dolce questi oli che sono nutritive olio di argan ovviamente anche cerveza eccellente ok e noi andiamo proprio a drenare e quando arrivi qua comincio a scendere sul collo così scendo e scarico le vie linfatiche e noterete che avete delle tensioni nel viso delle tensioni che cominci a lenire rilassare sciogliere ed è molto piacevole questo massaggio alla fine della giornata quando tu hai lavorato tutto il giorno e sarai io c'ho delle contratture qua qua sotto sai quando seriamo i denti perché siamo nervosi o seriamo i denti e ci sentiamo no nervosi qui creiamo delle contratture così vado a lavorare e poi tiro giù respira respiro inspiro respiro 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 e devo dire poi alla fine secondo me queste cose quasi è quello che ti ti dà quell'aspetto quasi all'immediato più fresco magari c'è un appuntamento importante galante un red carpet o un nuovo fidanzato o un appuntamento importante se fai un po' di massaggio prima di uscire da casa comunque ti illumina l'altra cosa che mi piace tantissimo aspettami in realtà un po' di olio proprio per mantenere una bella diciamo elasticità sui movimenti sul viso posso anche andare diventa sempre leggermente difficile andare a massaggiare anche il naso labiale ando verso esterno e dall'altra parte giù verso esterno e comincerai sentirai sollievo poi alla fine comincerai a sentire come se stessi sollevandoti su altro movimento che a me fa pazzire e poggiarmi lo zigomo proprio come se stessi provando di sollevarmi le zigomi otteniamo 10 7 5 4 3 e poi esterna e relax di nuovo poi lentamente verso fuori senti come ti rilassa le muscolature mi stira ok ok altra cosa che possiamo prendere è qua e facciamo sull'arco del nostro sopracciglia sopracciglia guardando in basso perché quando vuoi ritrovare un po' di diciamo tonificazione sulla palpebra ok la devi sentire che va in tiro così se sollevo le sopracciglia delicatamente tracciando le sopracciglia guardo in giù batto un po' le palpebra mi aiuta a anche tonificare le palpebra altra cosa usando l'inocchio vado su traccio giù su e poi spingo su tutto l'ovale fino al collo su traccio giù entraccio giù entraccio giù adesso andiamo proprio in su 1 2 3 4 5 6 7 e anche qui noterete tantissime contratture 1 2 3 4 5 6 7 8 leggermente più larga verso su verso su stacco il ripoggio stacco il ripoggio 4 3 2 verso fuori 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ho contrattura anche sulla fronte quanto sono stressata ok dopo che abbiamo fatto il nostro massaggio il nostro massaggio facciale poi possiamo passare oh c'è un altro molto bello scusami mettete le dita insieme e tracciate e drenate sotto usando la parte qua del vostro questo dito attenti a non avere i pellucci sai quelli rigidi i duroni intorno le cuticole che possono graffiarti non vogliamo assolutamente graffiarci ancora 4 ancora 4 ancora 3 ancora 2 ancora 1 che bello è riposante fare il face jam 2 e diverse persone dicono meglio le punture ragazzi fate anche le punture io non ti sto dicendo non fare le punture però perché non provate di essere soltanto costante con un po' di ginnastica con un po' di palestra con un po' di costanza perché veramente cambia il volto veramente rinfresca il volto è gratuito sta online le mie allenamenti prova prima di fare l'altra cosa ancora sotto e relax ok già vedrete che il viso è un po' più fresco adesso perché ci siamo aumentato il microcircolo siamo ossigenati siamo drenati un po' le vie linfatiche e così già vedrai che il tuo viso è più luminoso ma adesso passiamo sull'ultima l'ultima parte dermaroller ok dermaroller ti faccio vedere come funziona ok con questa piccola 3D ok questi aghi vanno a creare dei microfori dentro la pelle che non sono tale per produrre un rossore troppo evidente ovviamente non 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 crea nessun tipo di fuoriuscita di di sangue perché non sono così profondi ovviamente i dermatologi in america usano aghi assai più profondi si chiamano vampire facial ma lo fanno soltanto i medici ragazzi non esageriamo proviamo di affrontare i dermaroller con saggezza io lo disinfetto con l'argento colloidale che è un antibatterico naturale posso anche mettere l'argento colloidale in faccia per disinfettare ok stanno utilizzando adesso argento e metalli preziosi a posto addirittura delle antibiotici ma non sono qui per parlare dell'argento colloidale e cominciamo a tracciare dieci volte dieci questa parte andrò a velocizzare perché non ti faccio perdere il tempo di guardarmi fare tutto ma più o meno il concetto è di fare dieci passaggi dieci passaggi o dieci diciamo rulli ok per ogni posizione in verticale orizzontale in diagonale ok partiamo ok allora ho fatto tutto il mio trattamento con questo dermaroller 540 aghi di titanio come funzionano funzionano che passandoli sulla superficie della pelle si crea microfori questi microfori vengono ripristinati dal mio fibroblasti per produrre più collagene e tendere ed estendere la pelle diverse persone mi hanno detto che è sempre più magra ma sembra più magra perché la pelle che viene tonificata viene distesa viene più più tonica più aderente al cranio o allo scheletro facendo un vero e proprio tessuto contenitivo ok tessuto contenitivo dopo che abbiamo fatto il dermaroller ovviamente possiamo utilizzare il dermaroller con dei sieri come acido ialloronico a tre livelli o altrimenti come diciamo sieri di bava di lumache acido ialloronico perché penetrerà più in profondità dei principi attivi per darci una mano però ricordiamo anche che il dermaroller di solito andrà fatto uno anche tre volte alla settimana per le prime tre quattro settimane poi due volte alla settimana per il mese seguente poi una volta a settimana dai tempo al dermaroller di funzionare perché il collagene ci impiega un po' di tempo di essere ripristinato io penso che la freschezza e le distensioni che vedrai in immediato e più grazie al massaggio con olio di rosa moschetta e nostra face gym e anche ricordate sempre che è la costanza che ci dà i risultati così se volete vedere il face gym vai sulle mie palestre online nowjcoper.com o sulle privé di jcoper.it dove basta che diventi membro di mio sito gratuitamente e potete vedere le allenamenti non solo di face gym ma anche allenamenti fisici o altrimenti youtube e poi l'altra cosa ricordate che il dermaroller è di uso personale non potete avere un uso promiscuo comunque perché gli aghi penetrano la pelle così ognuno ha il suo le disinfettiamo prima dell'utilizzo sul viso possiamo usare 0,25 mm o 0,50 però cominciate prima con 0,25 perché se sei un tipo che ha la pelle sensibile magari è meglio partire con un ago più corto per iniziare e man mano vai avanti abbiamo anche un millimetro che uso per la pelle del corpo con cui ho avuto grandi risultati farò un altro tutorial per un altro per un altro giorno per utilizzare il dermaroller sul corpo la cosa importante è di scattarvi le foto prima farlo il face gym e il nostro massaggio tutti i giorni e a distanza di 14 giorni a 28 giorni rifare le foto perché vedrai ti assicuro una differenza l'altra cosa che potete abbinare se volete avere un vero e proprio effetto lifting durante questo processo è body renew che sono i miei integratori a base di acido ialloronico collagene e fitoterabici sinergici che aiutano la produzione endogena di collagene stesso va bene vi ho promesso questo tutorial ricordate di seguirmi sui miei social se volete avere altri trucchi di bellezza e benessere e baci per oggi dalla Jill viene a scoprire il mio mondo su gilcooper.it